E con gli archi e l'orchestrazione di Pivio e Aldo un po' 007 Pivio è una persona, Aldo Descalzi è un'altra, Pivio è un nome d'arte, Aldo Descalzi Non sono Pivio e Aldo Descalzi perché Pivio si chiama Descalzi No no, uno è l'altro Anche in conferenza stampa, anche con lui davanti, gliel'hanno ribadito Che ah voi due fratelli che componete, no veramente Diabolic, Ginko all'attacco è il film di cui vi parleremo adesso brevemente Anche se ho fatto gli appunti, ho proprio gli appunti Perché allora innanzitutto questo film, il secondo film diretto dai fratelli Manetti Dai Manetti Bros è, come ha detto Gabriele Gnola, molto simile al precedente Ma con più ambizione, il primo film non era un bel film E qui siamo abbastanza tutti d'accordo Però questo film ha delle stranezze veramente, delle assurdità totali Prima tra tutti io vi sto facendo sentire la colonna sonora del primo Perché? Perché il film esce giovedì 18, 14 No, 14 da ieri Quindi giovedì è 17 Il film, la colonna sonora, ma soprattutto la canzone che apre appunto alla 007 Il film esce il giorno dopo l'uscita, il 18 Quindi neanche il traino di Diodato Che tra l'altro canta magistralmente Tra l'altro una canzone che ha nel testo Quello che per me è una chiave di lettura di tutto questo progetto Lui dice, e vado a memoria perché ho cercato E nel momento in cui vi sto parlando non c'è né il testo Ovviamente non c'è neanche una lyrics version di Come si intitola questa canzone? Se mi vuoi E tra l'altro appunto, se volevi sentire la canzone di Adele Che apriva Skyfall Non c'è niente, non c'è niente Skyfall di Adele era presente, era disponibile Certo Molto prima Qui in Italia no, però appunto dicevamo Vado un po' a memoria, mi sono anche segnato qualcosa Il testo di Semi Vuoi di Diodato dice Cambiare volto per non morire Cambiare per non essere dimenticati Credo sia una metafora perfetta di tutto questo progetto Che vede il ritorno di Diabolic Il fumetto, il personaggio creato da Angela e Luciana Giussani 60 anni fa, se non erro Stiamo proprio nel sessantesimo Il secondo film di una trilogia Questa cosa è stata spoilerata e tra poco vi faremo sentire anche da chi Però non c'è più Luca Marinelli Luca Marinelli interpretava Diabolic Marinelli è andato a fare Mussolini nella stanza accanto Però è stato sostituito da Giacomo Giagnotti È attore italiano, è nato proprio a Roma, però poi si è trasferito in Canada Celebre e noto come il dottor Andrew De Luca di Grey's Anatomy È uno dei personaggi di Grey's Anatomy, è attivo dal 2015 al 2021 C'è proprio la facciata che è sanatomy comunque Tra l'altro all'età mia, quindi io e lui Come all'età tua? All'età mia, è nato giugno dell'89 Io sono nato pochi mesi dopo, però questa è un'altra delle stranezze Sicuramente abbiamo un fisico, un corpo simile Ma sicuramente sulla carta identità abbiamo una data di nascita molto vicina Però appunto esce Marinelli, entra Giagnotti Lui graficamente ci sta molto meglio di Marinelli Marinelli probabilmente è andato via dal progetto per altri motivi Forse non è perché era troppo poco simile al genio del crimine, al re del terrore Quindi punto a favore per Giagnotti Che effettivamente, proprio graficamente ci sta molto molto bene Però lo doppiano E questo strida un po', lui parla italiano Magari per sicurezza l'hanno doppiato Ma forse parla italiano come un italo-americano Magari ha molto l'accento Dopo te lo faccio sentire perché sono stato alla conferenza stampa E ho registrato qualche passaggio Resta Miriam Leone, a proposito di accenti Entra Monica Bellucci nel ruolo di Altea Altea è una nobile donna La duchessa di Wallenberg Che arriva nel mondo di... cosa? No, niente, vai, vai Che arriva nel mondo di... Arriva a Clerville Ed è molto legata all'ispettore Ginko Non è uno spoiler Però la cosa strana, una delle altre cose strane È che a Monica Bellucci Che ha comunque una voce particolare Anche un accento non è proprio italiano dritto È un italiano francesizzato Molto scecherato e non mescolato Le chiedono, i manetti, di parlare un pochino alla russa Di accentarla alla russa Inoltre... Che è un po' come Lady Gaga Che faceva quella specie di strano... Alejandro? No, a Gucci A Gucci Sì, sì, sì Che dovevano sembrare Italo qualcosa È venuto una roba tipo... Forse Pensiamo... Però la cosa non si limita solo a quello C'è un accanimento vero e proprio contro Monica Bellucci Perché le danno una parrucca palese Lei è una donna bellissima dal vivo sullo schermo È veramente una divinità Soltanto che l'accento... Che l'austacola Il... La... Anche lo sbadiglio ci sta Ma... La parrucca Ma soprattutto un filtro bellezza applicato sopra Spappola letteralmente... Alla Paola Ferrari abbiamo detto, no? Alla Barbara Duzzo Biascica, proprio apri tutto Spiaccica completamente tutti i lineamenti E quando arriva lei Sembra veramente tutto un altro discorso C'è veramente qualcosa che non va Addirittura i dialoghi sono didascalicissimi Non c'è mistero Perché tutto viene raccontato E anche riproposto con dei veri e propri replay Ma non da altre angolazioni Tipo la vicenda l'avete vista dagli occhi di Tizio Adesso la vedete da un altro... No, proprio rivedete esattamente le stesse cose Un film con dei grandi problemi Dal punto di vista attoriale della regia Mentre dalla parte del setup Il set stesso, luci, scenografie È bellissimo Finalmente E qua mi ricollego a Monica Bellucci Finalmente vediamo la... La tana L'antro di Diabolic Che era stato utilizzato Nel primo trailer Anzi, in un trailer di Diabolic 1 E poi nel film non c'erano Non c'erano quelle immagini In effetti lui, Giannotti Sembra uscito da un fumetto È proprio un sguardo pazzesco Dicevo, della Diabolic Caverna Ha detto anche, ha dichiarato in conferenza stampa Monica Bellucci ha detto di sì Guardando il trailer Ma quel trailer poi non era... Non rispecchiava il film Quindi è stato un po' un trappolone A questo punto ci sentiamo Un piccolo estratto Un minutino Dalla conferenza stampa Che parla, racconta proprio Della trasposizione dal fumetto Al film È abbastanza, insomma, diciamo Proprio basato sul fumetto Non ci sono tantissimi cambiamenti Ovviamente quando si trasporta Da un mezzo a un altro Cambia tanto Quindi chiaramente poi Se si sente le scelte bisogna farle Quindi, però per noi è abbastanza C'è una differenza principale Che nel fumetto non c'era Altea Ma noi abbiamo pensato Che per raccontare Questo fumetto, questa storia Raccontava appunto Cioè si vedeva la storia attraverso Ginkgo Ginkgo l'attacco, infatti si chiama E di Ginkgo mancava qualcosa Per raccontarla, per esempio, nel 60 gradi Mancava Altea Mancava l'amore Mancava la parte intima di Ginkgo Che invece dei fumetti diaboliche È molto importante Quindi abbiamo aggiunto noi E quindi chiaramente Poi tante cose sono cambiate Il personaggio di Altea Che chiaramente è un personaggio Fissile di Diaboliche Uno dei quattro protagonisti Dei fumetti di Diaboliche Ma non c'è in quel preciso numero Il problema quindi è evidente Che non è la carrozzeria di questa macchina Ma è tutto ciò che è dentro Le ruote, gli attori, Nii Sicuramente l'impianto, la regia La direzione che si sta dando a questo progetto È veramente molto pericolosa Comunque secondo me Quello che dicevi anche in un altro momento fuori onda La Bellucci non si è voluta tagliare i capelli È possibile Io credo che sia quello Sono abbastanza convinta Lascia lì così Ha dei capelli bellissimi Lunghissimi, certo Non è uguale Il personaggio invece è come una sorta di caschetto Andiamo nella trasposizione Il fumetto è un fumetto pensato per essere letto sui mezzi pubblici È un fumetto perfetto per letture metropolitane Angela e Luciana Giussani avevano in mente il loro pubblico Avevano in mente addirittura il formato che doveva avere questo fumetto Perché doveva stare dentro alla tasca della giacca Proprio per permettere agli operai Agli operai, alla lavoratrice, ai lavoratori Di 60 anni fa Di portarselo con sé E leggerlo durante lo spostamento da casa al lavoro Ok Però qui appunto come diceva Uno dei Mighty Bros Si sta parlando di una trasposizione Quindi capisco la fedeltà al fumetto Però non puoi usare questo come una scusa Per mettere veramente dei dialoghi atroci Assurti Banalissimi Ma soprattutto rovinano addirittura un'interpretazione Che nel primo film era superlativa Valerio Mastrandrea Pure in questo film Che ha molto spazio Visto che è Ginkgo all'attacco Sembra quasi instupidito rispetto al tempo Vuoi metterci che è l'effetto di Altea? Mi sembra un po' una Forzatura Una forzatura Quindi dialoghi di Tascalici Zero mistero Tutti i colpi di scena sono messi Spiegati Letteralmente Cosa ci aspetta il futuro Sicuramente deve uscire questo film Sta per uscire Andrà Bene al cinema Sicuramente nel cinema dove l'ho visto Poco prima avevo visto Dampir Dampir è andato malissimo al botteghino Però a livello proprio audio Anche di fattura L'ho sentito L'ho percepito Proprio a livello di qualità Molto più alto di questo film Che mi appariva molto molto piatto Ma va detto che Dampir Anche come fama dei personaggi e della storia È molto meno conosciuto di Diabolic Come fonte No intendo Quindi in teoria Diabolic dovrebbe andare meglio Quindi probabilmente questo progetto farà Farà male alle persone che lo hanno trasposto così Queste scelte sono veramente molto pericolose Velocissimamente Andiamo a sentire quello che ci Per il futuro Si sa Basta scrivere su IMDB C'è un Diabolic 3 Addirittura un Diabolic 3 Con un Diabolic più giovane Quindi ci saranno dei colpi di scena Lo ricambiano di nuovo No non lo ricambiano di nuovo Anche perché E qui sentiamo Giannotti e Mastandrea Vabbè comunque Sicuramente si parlerà Dell'albo fondamentale Il terzo film probabilmente sarà Diabolic Chi Sei Addirittura ci sta su IMDB Una data Esattamente l'anno prossimo Diabolic Chi Sì 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 È un albo di racconto delle genesi No però mi fa ridere Diabolic Chi Sei E la risposta è dietro l'angolo Cioè nel senso Soprattutto dopo delle recensioni del genere Sentiamo Giannotti Giannotti Aspetta aspetta No 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 Non sbacchiamo così No veramente Non è che ci sono tante Tante differenze Però io non ho mai lavorato con Con due Registi Allora questa è stata Un'esperienza nuova Per me Come si sono divisi Le responsabilità Infatti non è che parla Parla benissimo Parla benissimo Non capisco È italiano Sì Vabbè Non capisco il doppiaggio È molto Interessante Normalmente io non ho un regista Che opera Questo era un nuovo Per me Avere Antonio Ho proprio due piedi da me Per una domanda Per qualcosa Per facciamolo di nuovo Che ne pensi se la facciamo così Normalmente dovrei urlare Perché il regista è lontanissimo Nell'altra stanza Ora avere Insomma Antonio Lì vicino Era un rapporto più intimo Con il regista E oltre a questo Non lo so Beh la differenza La facevano pure i colleghi Diciamo Sì Adesso ti racconto un aneddoto Che non scrivete Perché Non serve scrivere Conferenza stampa Io racconto un aneddoto No va bene Non è una domanda Allora C'era una Una scena Dove io Che io non ricevo A fare Va bene La mettiamola così Non ci riuscivo proprio E tra l'altro È una scena State ricordando Che non viene Infatti Non la racconto Nel dettaglio E diciamo È una scena Che Diciamo Mi aiuterà A smettere Perché è proprio Stata sinonimo Di un limite Invalicabile Che io non posso superare Non mi veniva Sta scena La facciamo E rido io E c'era Antonio Operatore E Marco Al monitor E Giacomo Davanti a me La facciamo La seconda Viene un po' meglio Ma ride Marco Al monitor Immaginate Giacomo Che viene da un cinema americano Di metodo E c'è Immaginate lui Che vede tutto questo Terzo Chuck Riproviamo Rirido io Rido più che altro Diciamo In prego In prego Dico vi prego Facciamo qualcosa No Ce la facciamo Quarto Chuck Ci riesco quasi Non rido io Non ride Marco Ride Antonio Dietro la macchina da presa Quinto Chuck Rirido tutti E Giacomo si alza e fa Ai registi Basta Lasciatelo lavorare Che credo sia uno degli insulti più grandi che mi sia stato fatto Ma nello stesso tempo uno dei gesti più affettuosi che un attore vero ha detto ai registi di far lavorare come se fosse colpa loro No che io ne riuscivo a fare quello Invece proprio io Io poi sogno sempre di vedere il premontato di quella scena se percordo io perché sapete che se no non lo promuovo il film che è stata montata Che dici si è stata montata No è che stai a dire una cosa che non dovresti dire Perché ne hai visto sopremontato Perché sono stato fuori Perché è un altro film Eh vabbè è un altro film Che non è loro tra l'altro Tra l'altro non erano loro i registi Vabbè non lo scrivete insomma Perché se no poi non possiamo promuovere diciamo un altro film che chissà chi ha fatto Ma sicuramente c'era la moglie già Poi insomma per quanto fa ridere Valerio Ma c'è una cosa che è successo durante il ripeto del terzo film Sì 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 no è stato molto difficile essere molto serio davanti a Valerio perché ci divertiamo molto Grazie Gianni Grazie per la carinenza Allora a parte il fatto che povero Mastandrea lui ha detto delle cose Che se loro non avessero continuato a sottolineare probabilmente sarebbero anche passate così E si sarebbe concentrati sull'aneddoto Questi hanno continuato a dire ah ha detto il premontato Alla fine voglio dire hanno detto loro Che era uno spoiler Tra l'altro questa cosa veniva detto con accanto i produttori Comunque Giannotti Gianniotti quello là Parla abbastanza bene Ogni tanto si sente un po' Un accentino Metà della sua vita Una cosa così Giusto quando ha detto piedi a due piedi di distanza perché nessun italiano direbbe a due piedi di distanza Chiaramente perché fa riferimento Un'altra unità di misura Esatto però mi sembra più che accettabile come italiano Ci sono italiani che parlano peggio Ci sono anche delle italiane che apprezzano moltissimo Giannotti perché leggo un bono come il pane E quindi con questo possiamo chiudere la parentesi di Diabolic 2 Gianco l'attacco non abbiamo distrutto perché è abbastanza fragile quindi non si spara sulla croce rossa Vi facciamo però sentire una cosa bella E con questo andiamo al prossimo nostro ospite Perché il nostro prossimo ospite Dario Sicchio ha trasposto e curato la trasposizione dal fumetto all'audio serie di Diabolic E esattamente ci andiamo a sentire tre minutini dall'arresto di Diabolic C'è una grandissima differenza già Soltanto così Prego